Gossip Gossip, Soleil sorge aveva alimentato i gossip e le malelingue in merito alla sua fedeltà dopo aver accettato un passaggio dall'altro tronista Marco Cartasegna. Gossip Entrambi hanno dovuto difendersi da diverse critiche e dagli attacchi dello stesso Gian Marco, il quale considerava tale gesto una mancanza di rispetto nei confronti del fratello assente. Gossip Inoltre a manifestare la sua disapprovazione c'era Federica, ex del tronista Marco, la quale non considerava il passaggio in macchina come un semplice gesto di gentilezza ma ci vedeva dei secondi fini. Gossip, Giulia Latini rivela qualcosa di inaspettato. Gossip, dopo aver chiarito la questione che vedeva protagonisti Marco e Soleil, a gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Giulia Latini. . Quest'ultima era l'altra corteggiatrice di Luca Onestini, e ha affermato di aver avuto contatti telefonici con Luca anche dopo la trasmissione. . Ovviamente Soleil non era al corrente del loro rapporto e dei loro contatti, per cui la sua reazione a pomeriggio 5 è stata di mettere in discussione l'intero rapporto costruito fino a quel momento con il fidanzato. Gossip Giulia Latini ha la coscienza pulita. . Anche Giulia Latini dopo le rivelazioni in merito al suo rapporto con Luca ha ricevuto diverse critiche ed insulti da parte dei fan della coppia. Ma lei proprio non ci sta e afferma di avere la coscienza stra pulita. . Inoltre la Latini attraverso un sondaggio fatto in una story di Instagram afferma di continuare a dormire poiché le parole di Soleil non la toccano minimamente. Giulia Latini sul suo profilo pubblica una foto con la didascalia nel regno della gente spregiudicata, sensibilità e buona fede spaventano. In tutto ciò Luca ancora non ha raccontato la sua versione dei fatti in quanto estraneo a tali rivelazioni. . .